ciao manutentore bentornati nel mio garage io sono stefano oggi 30 settembre del 2021 questa mattina ho acquistato la lidl questo oggetto misterioso pensavo fosse la prima volta che usciva in italia ma evidentemente era già uscito perché qualcuno ne parlava nei gruppi facebook a meno che non l'abbia acquistato online dalla germania in ogni caso che cos'è si tratta di un seghetto elettrico ea pendolo ricaricabile 20 volt le definizioni di lidl sono sempre molto particolari vi dico in termini molto più comuni è un seghetto alternativo che anche la funzione di seghetto a gattuccio molto particolare in questo video non vi farò una recensione completa purtroppo per mancanza di tempo quindi ci rivedremo magari nei prossimi giorni per una recensione più approfondita volevo darvi diciamo le mie prime impressioni perché l'ho acquistato con molta curiosità per cercare di capire di che cosa si tratta è un seghetto alternativo è un gattuccio non è nell'uno nell'altro forse la risposta è proprio la terza andiamo a vedere ma prima sigla eccolo qua si tratta del ps ss a ventili b2 ecco il fatto che si chiami b2 significa che era già uscito una versione a1 quindi non è la prima volta che esce anche se io la prima volta che lo vedo compatibile con la linea x20 v team tre anni di garanzia queste sono quattro lame che ci sono in dotazione qui fa già vedere come lo si può utilizzare come seghetto alternativo o come seghetto a gattuccio tramite questa testa inclinabile attrezzo due in uno per tagli precisi e flessibili flessibili va bene precisi parliamone viene venduto senza batterie senza carica batterie e quindi dato che costa 35 euro circa se dobbiamo aggiungere una batteria da 2 ampere ora che poi tra l'altro non è neanche la più adatta e un caricabatterie arriviamo a 55 euro e quindi comincia a farsi una cifra un po più importante anche se comunque limitata per il tipo di attrezzo vediamo un attimo le caratteristiche che dichiara il costruttore seghetto elettrico e a pendolo attrezzo due in uno e avanti cambio funzione senza attrezzi grazie alla testa inclinabile il nastro automatico interruttore di sicurezza rotella numerata per la regolazione manuale del numero delle corse delle corse accelerazione del taglio attivando il movimento a pendolo impostazione senza corsa a pendolo per tagli di precisione manico con rivestimento soft grip luce da lavoro led integrata mandrino bloccaggio rapido soul lock per una facile sostituzione della lama per le comuni lame disponibili in commercio ad esempio parkside bosch scintilla e molte altre poi qua ci dice che è un seghetto a pendolo elettrico da 800 a 3000 giri a vuoto penso siano oscillazioni al minuto 20 mm di lunghezza della corsa modi di funzionamento taglio preciso corsa a pendolo profondità di taglio 100 mm in legno 50 mm in metallo 50 mm mi sembra tanto comunque vabbè capacità di taglio del seghetto a pendolo 5 a questo era l'alternativo il pendolo 50 mm in legno 4 mm metallo infatti secondo me questi 50 mm in metallo anche no è impossibile secondo me non ristampa poteva essere cinque accessori due lame per seghetto a pendolo e due lame per seghetto elettrico sono per legno metallo e per legno metallo attrezzo compatibile con le batterie sui tv team apriamolo bella valigettura ingombrante perché d'altronde è abbastanza ingombrante anche l'attrezzo apriamolo e dentro non c'è praticamente nulla quantomeno c'è l'immancabile libretto di istruzioni che più che mai vi invito a leggere per scoprire eventuali funzioni nascoste poi c'è l'attrezzo e sicuramente le troverete anche voi sparse un po per la valigetta ci sono quattro lame speedwood legno veloce infatti vedete la dentatura poi c'è metallo con dentatura piccola ancora metallo però queste sono quelle per il gattuccio e legno per il gattuccio come potete vedere ci sono due attacchi diversi ma sono riusciti a fare diciamo una specie di magia rendendo compatibile il seghetto con tutti gli attacchi la batteria si innesta qua dietro non ho ancora idea se ci sia differenza di prestazioni tra la 2 am per ora la 4 per ora fatto sta che una volta innestata il tasto è bloccato perché bisogna prendere la sicurezza da una parte o dall'altra quindi adatto sia a destra che a mancini una volta premuta la sicurezza lo possiamo azionare ad essere velocità 1 a un led da lavoro abbastanza simbolico veramente poco potente tra l'altro ad accensione e spegnimento immediati la forma è parecchio strana perché il motore qui vedete questo perché io premo questo tasto tiro in avanti il corpo e mi diventa un'altra cosa eccolo qua e così mi diventa il gattuccio effettivamente a gattuccio qui non è per esempio consigliabile impugnarlo perché qui ci sono le feritoi della reazione però vabbè a gattuccio diciamo assomiglia abbastanza ad un seghetto a gattuccio ripremiamo e riportiamolo così ed assomiglia abbastanza ad un seghetto alternativo cosa manca rispetto a un seghetto alternativo cominciamo da qui intanto non ha nessun attacco da nessuna parte per una battuta parallela già quell'asta che si monta per fare tagli dritti di conseguenza bisogna per forza andare a mano libera e qui è la prima cosa che lascia molto la mare in bocca la seconda cosa è che non ha alcuna possibilità di regolare l'inclinazione zero è fisso piano di lamierone fisso assolutamente fisso oltretutto con questo gioco ma che non pregiudica perché vedete che qui è tutto solidale quindi almeno questo non pregiudica la precisione di taglio proviamo a mettere una lama innestare la lama è molto semplice si gira questa ghiera si infila la lama e siamo a posto eccola qua ed è ben bloccata però già qui possiamo vedere che uscilla parecchio poi a due posizioni questa diciamo la posizione che loro dicono per tagli precisi non so quanto precisi possano essere in ogni caso se noi guardate bene se noi giriamo questa manopola la lama si inclina all'indietro quindi prende il legno più diciamo di spigolo e aumenta la velocità del taglio a discapito della precisione chiaramente il seghetto non sa quale lama noi abbiamo montato quindi possiamo anche usarlo così non so a chi possa servire un seghetto alternativo così fatto in questo modo ma qualcuno potrebbe piacere se ha dei gusti strani fatto sta che questa posizione invece è fatta per utilizzarlo come seghetto a pendolo quindi andiamo a rimuovere la lama da seghetto alternativo andiamo a montarne una da seghetto a pendolo vedete che è molto semplice una volta trovata eccolo qua bisogna ruotare bene la ghiera e lei tac ecco la si blocca e abbiamo un seghetto a pendolo ora come seghetto a pendolo a parte la forma un po bislacca un po strana non ho idea sinceramente se sia paragonabile ad un seghetto a pendolo dedicato anche perché negli utensili e batteria è difficile capire la potenza parkside non la dichiara a differenza magari di qualche altro concorrente che dichiara la potenza no in questo caso assolutamente no quindi non sappiamo se il gattuccio a batteria con funzione dedicata di gattuccio possa essere più potente o meno di questo anche se non so perché ma a me gli attrezzi troppo multifunzione lasciano sempre un po sospettosi va bene fatto sta che rispetto al gattuccio dedicato che ha questa battuta sia regolabile in inclinazione che in profondità questo ce la fissa stessa pecca che abbiamo trovato per quanto riguardava il funzionamento alternativo in più non ha nessun tipo di attacco per aspirazione quindi tutto quello che produciamo ce lo becchiamo l'unica cosa che c'è è questa azionandolo qui si sente uscire dell'aria questo chiaramente quando lo utilizziamo a gattuccio non ha nessun significato perché d'altronde il gattuccio di solito si usa per fare lavori già sporchi di suo e sarebbe anche impossibile aspirare ma se lo usiamo come alternativo la feritoia ci cade proprio vicino tramite vediamo se riesco a farlo vedere qui c'è un buchino a colori lo vedete qui da qui esce l'aria mi va a spazzare diciamo la parte che sto segando è l'unica l'unico particolare che ci permette diciamo di avere un po di pulizia ma non c'è nessun tipo di aspirazione di conseguenza avremo sporco è un utensile sporco poi chiaramente le varie gommature ho saltato perché mi sembrano particolari di poca rilevanza volevo più descrivere un po appunto il funzionamento generale e soprattutto quelli che secondo me sono i grossi limiti di questo apparecchio l'ultima cosa attenzione perché queste lame io le avevo trovate infilate nello scomparto del libretto di istruzioni quindi uno potrebbe anche pensare che non ci sono lo portate a casa vedete che mancano accessori lo riportate indietro il commesso squat e la valigetta vi tira fuori gli accessori voi fate la gran figura barbina ok quindi sappiate che sono lì sequenza girata dopo perché ho notato che la valigetta è concepita in maniera molto intelligente vedete che può contenere l'utensile con una batteria da 4 per ora contemporaneamente infilata qui sfruttando la profondità una batteria da due per ora e sotto al seghetto il caricabatterie con l'alloggiamento per il filo molto intelligente bene ragazzi questa voglio chiamerei seghetto frankenstein questo seghetto ibrido secondo me non lo so io non riesco a capirlo perché è un po l'attrezzo per nessuno io ho già il segreto alternativo a batteria della parkside che è un ottimo prodotto secondo me per quello che mi è costato e mi sembra se non mi ricordo male si è costato più di questo ma la memoria mi potrebbe ingannare o anche il seghetto ad attuccio che costava o anche seghetto gattuccio che costava circa 30 euro senza batterie carica batterie diciamo che questo per uno che non ha grosse esigenze né in un senso né nell'altro quindi né come seghetto alternativo né come seghetto gattuccio dice prendo questo e vivo tranquillo ma il fatto che non si possano fare tagli inclinati a me sta qua io non dico che uso sempre seghetto alternativo per fare tagli inclinati ma molto spesso anche perché è uno dei punti di forza del seghetto alternativo secondo me fare piccoli tagli su materiali abbastanza leggeri con una certa precisione e qui precisione anche no non ce n'è di conseguenza vedremo mi riservo di provarlo di farvi sapere i risultati però per ora io direi lasciatelo pure dove a meno che appunto non abbiate veramente poche esigenze in termini di taglio e vi serva quelle pochissime volte l'anno sia come gattuccio che come seghetto alternativo io spero che video vi sia stato utile io spero che il video vi sia stato utile mettete mi piace mi raccomando iscrivetevi al canale attivate la campanella per rimanere aggiornati su novità magari vi lascio qualche link per acquistare su amazon seghetti alternativi ea gattuccio proverò a vedere per curiosità se c'è anche qualcosa del genere anche se sinceramente poi utilizzate anche gli altri link che lascio in descrizione per fare questi su amazon senza spendere nulla di più da parte vostra e aiuta il canale e noi ci vediamo la prossima volta ciao